Allora è molto importante che tu pensi al tuo fidanzamento come a un tempo provvisorio. Ogni essere umano si sente solo. È Dio che ha messo questo senso di solitudine nel nostro cuore. Perché senza questo senso di solitudine non saremmo spinti a cercare un compagno o una compagna nella nostra vita. Non saremmo spinti alla ricerca di qualcun altro, di qualcuno che ci completi. Gloria e l'odio a Dio, che amore vero sei, Gesù, unico e indelebile. Siamo sposi dall'eternità, nel cielo ai nostri nomi Dio ha scritto. Grazie a tutti.